Paoli arredamenti. Attenzione ai bisogni. Passione per i sogni. L'azienda da oltre 55 anni, sinonimo di professionalità e affidabilità, è leader nell'arredo casa di qualità. L'obiettivo è soddisfare le esigenze abitative iniziando dalla progettazione alla consegna e all'assistenza post vendita. Nello showroom troverete soluzioni d'arredo contemporaneo, classico e di antiquariato, delle migliori marche del made in Italy anche su misura. La ditta dispone di una falegnameria interna dove ritoccare o personalizzare i mobili e si avvale solo di personale interno qualificato.